Tre tonnellate di droga, suddivise in 300 sacchi di plastica dal peso di circa 10 kg ciascuno, sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro in un cappannone apparentemente dismesso nella zona industriale di San Ferdinando, mentre stavano effettuando specifici servizi volti alla prevenzione e repressione della produzione smercio di sostanze stupefacenti nel territorio origino. Una vera e propria industria dove le piante venivano lavorate, conservate e siccate attraverso un articolato sistema che prevedeva luce artificiale, ventilatori di grosse dimensioni e reti di nylon grazie alle quali venivano appese le piante prima della lavorazione. La sostanza sequestrata, che una volta suddivisa in circa 600.000 dosi e messa sul mercato illegale della droga avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro, pur essendo riconducibile a una tipologia di pianta per la quale è consentita la coltivazione, è risultata avere un valore di treta idrocannabinolo THC superiore al massimo consentito dalla legge per la commercializzazione legale della cannabis e quindi su disposizione della procura della Repubblica di Palmi è stata confiscata per essere distrutta, mentre il cappannone industriale è stato sequestrato.